Le criticità e i problemi finanziari al Comune di Chieti sono tutt'altro che risolti a causa della scarsa capacità di riscossione dell'ente e dei mancati trasferimenti statali. Ma nonostante tutto ci sono segnali di inversione di tendenza e commenti positivi da parte del primo cittadino in merito all'approvazione del rendiconto 2015. Abbiamo sentito in questi giorni le solite cassandre della sinistra che preannunciavano dissesti, sfaceli, anche non sapendo leggere evidentemente le carte. Perché se c'è un dato nuovo e la discontinuità rispetto a un trend negativo che vedeva i rendiconti del Comune approvati sì ma sempre con un parere non favorevole da parte del revisione dei conti, per la prima volta dopo quattro anni il rendiconto del Comune arriva in Consiglio Comunale con un parere favorevole per quanto condizionato, ma ad una condizione che è stata peraltro risolta dall'amministrazione attraverso una revisione del credito vantato da Acani nei confronti del Comune. Non parlerò dei debiti che ho ereditato e ne sono per davvero tanti. Non voglio parlare neppure del riaccertamento dei residui fatti lo scorso anno che ci hanno portato ad avere circa 30 milioni di euro di disavanzo, ma parlo dei 5 milioni e 3 di avanzo che si registrano sul rendiconto per competenza del 2015, il che vuol dire che in un anno adottando politiche che sono state mirate al risparmio, al taglio della spesa e ad una oculata gestione delle poche risorse a disposizione, siamo stati in grado di mettere in sicurezza i conti del Comune. Adesso si apre una fase nuova che è quella della predisposizione del bilancio di previsione, un bilancio di previsione che non può non tener conto di quello che stiamo ancora vivendo, perché se è vero che abbiamo approvato il bilancio in condizioni di parere favorevole da parte del Collegio Revisore dei Conti, prendi conto, è altrettanto vero che abbiamo necessità di continuare ad avere una politica molto, ma molto ristretta sotto il profilo della spesa e soprattutto ad azionare nuove politiche delle entrate.